se la tua mansione sul posto di lavoro è fare le fotocopie sicuramente la tua qualifica sarà qualcosa che suona come document replication manager in inglese fa figo non lo capisce quasi nessuno in italia per di più contiene la parola manager e per uno che ha la terza media fa figo dire ah però mi è andato alla mansione di manager poi fai le fotocopie è quello ma ti ha dato questo titolo funziona così ci avrei fatto caso questa è la ragione per cui anch'io nello scrivere qualcosa su come cavarsela in questo casino invece di dire come cavarsela in questo casino ho scelto un termine in inglese l'ho chiamato qualcosa che tu potresti pronunciare reality surfing o reality surfing se sei un pochino più così un po nemico dell'inglese oppure reality surfing se sei più da telegiornale in ogni caso è questa roba come cavarsela in questo casino che non è una ricetta non è come vivere è qualcosa che racchiude tanta roba che parte però da un punto da un assunto fondamentale questo è il problema più grosso che potresti incontrare e diciamo che io ho fatto il mio percorso e sono arrivato a un certo punto io sto scrivendo da qui in avanti a seconda di chi tu sia potresti capirci non capirci annoiarti dire questo è pazzo ma a me non interessa vedi tu la questione è molto semplice crollate tutte le strutture mentali culturali che ti dicono che cos'è questo mondo che cosa sei tu e che cosa devi fare perché c'è sempre questo devi devi non pensare di essere libero sei libero finché fai quello che devi quando crolla tutto quanto ti rendi conto che tu non sai un accidente e nessuno sa un accidente facci caso quelli che più di tutti ti dicono io so come funzionano le cose ti parlano di mistero ti dicono ci devi credere perché ci devi credere vero non lo sa nessuno ergo se tu abbatti tutti gli schemi che hai tutte le sicurezze che hai perché ti rendi conto che non sono né schemi validi né sicurezza non sai di che cosa si tratta ti rendi conto che sei in un plasma in un fluido di cui nessuno sa nulla se è un fluido ci puoi navigare ci puoi navigare in mezzo ci puoi navigare sopra o puoi fare surf a seconda della velocità che raggiungi e del livello di abilità che raggiungi ovviamente l'immagine è figurata quindi ti ho detto io non ti dico e qui dentro che cosa fare diciamo che il reality surfing è un insieme di cose che a seconda di quanto ci vuoi andar dentro può essere una spiegazione dell'universo può essere una nuova spiritualità può essere una serie di ricette tecniche strategie per gestirti in questa cosa che te lo dico io per primo sono anche sperimentali nel senso che si basano su delle cose che ci sono in giro c'è gente che c'è già scritto dei libri su questi temi io sono un pochino più scettico e razionalista come approccio razionalista non vuol dire però che ho dei punti fermi perché se hai dei punti fermi vuol dire che ci credi c'è un nome per questa cosa che è fede io mi fido fino a un certo punto diciamo che studio la situazione ma sai quando parti dall'abbattimento completo di qualsiasi sicurezza e cominci a raccogliere dati a unire i punti ti nascono delle idee delle ipotesi fai degli esperimenti provi delle cose magari qualcosa funziona qualcosa funzionicchia qualcosa non funziona per niente il risultato dello stato attuale delle mie ricerche su questo fronte che è un fronte totale perché è un fronte che è a 360 gradi intorno 360 gradi per così 360 gradi nell'altro asse che adesso non mi ricordo che è così è questa roba qua è il punto probabilmente fra un anno fra due fra tre fra quattro aggiungerò delle cose toglierò delle cose non lo so io te lo do te lo do così prendilo fanno quello che vuoi se vuoi fai esperimenti se vuoi non fare niente non mi importa questo è reality surfing come viaggiare sulla superficie di questo fluido che si chiama realtà senza saperne nulla ciao